ben trovati allora probabilmente ci sarà qualcuno che negli anni ci ha già seguito per cui si troverà già ecco già la decima edizione nel senso che nell'isle 2014 si propose questo progetto di un portatile open hardware basato su un'architettura un po diversa che power pc e per cui chi ha già presenziato gli altri incontri magari sentirà cose simili cercherà di essere un po diverso di mettere qualche termine diverso per gli altri magari sarà una cosa nuova chiaramente dovrà fare un mix tra le due esigenze cioè non potrà essere così dettagliato che sono quelli che ci rangiassi annoiano e neanche essere troppo sintetico sono gli altri non capisco allora diciamo nasce dall'associazione che abbiamo fondato culturale 2000 di 2016 per supportare il progetto che è nato prima ma per dargli chiaramente una forma legale e la possibilità di raccogliere i fondi e poi in realtà l'associazione ha obiettivi più ampi che non sono solo il progetto specifico ma sono in generale la promozione e diffusione del software libero e quella del hardware libero ci interessa già lavoriamo nelle scuole con i corsi di coding dove riutilizziamo notebook usati con su linux ma ci interessa anche lavorare all'università lavorare inteso come volontari quindi facendo iniziative con gli studenti per progettare delle schede open interessanti cioè che siano di interesse per chi le progetta e di interesse per chi le compra le usa quello che è e ci interessa saper solidare la libertà di scelta quindi sicuramente per noi è importante che chi collabora l'associazione avanzi sia in collaborazione che in libertà quindi che sia contento ovviamente ma anche ci interessa tutte le tematiche dove al centro c'è una conoscenza la condizione della conoscenza da lì chiaramente l'interesse per il software libero e in generale ci interessa far qualcosa dove c'è oppressione dove c'è diciamo un condizionamento rispetto alla libertà e per cui ci interessa sicuramente la questione delle riparano opportunità non solo di genere ma in tutte le varie veste che sono e è buono e diciamo che siamo contro siamo molto critici siamo ci interessa evitare che che le persone diventino oggetto della sorveglianza del capitalismo della sorveglianza che in sintesi sintetizzano fare soldi sui nostri dati no e sulla previsione dei nostri comportamenti e va bene ci sono quattro settori di azione che ci interessano gli ho già detti almeno due e sì c'è anche il settore come dicevo prima magari detto in maniera indiretta c'è l'utilizzo di hardware usato o insomma vecchio per rendere accessibili diciamo gli strumenti col software libero perché nelle scuole da una parte si fa codi ma dall'altra anche si riciclano notebook usati però diciamo riciclo va al di là della scuola anche su altre questioni su milano in realtà non ci sono volontari che lo fanno attivo nelle marche questa cosa però chiaramente associazione aperta si può fare anche qua l'ultimo tema che è quello riguardo la scienza è un tema che non stiamo affrontando ma che ci interessa cioè ci interessa l'innovazione e il progresso scientifico in un'ottica di varietà delle ipotesi scientifiche vuol dire che ci possono essere varie ipotesi cioè ci sono di fatto e analizzare queste ipotesi con gli strumenti della filosofia della scienza adesso non entro nel dettaglio poi magari a futuro avremo modo riducendo i rischi di manipolazione monopolio e scientismo anche qui lasciamola aperta non è l'oggetto di questa di questo speech allora il progetto più importante dal punto di vista dello sforzo di questi anni cioè dal mio 2000 diciamo 2015 come progetto poi 2017 come raccolta fondi è il notebook che vi vedete il prototipo uno dei tre prototipi e vedete lo chassi in cui viene inserito quella scheda che è stata progettata per andare dentro quello chassi che non è stato progettato per noi cioè uno chassi che già è venduto da un'azienda spagnola che vende questo pc con una scheda madre x86 con suja linux e grazie a un rapporto di dire amicizia di stima non so qualcosa che non è commerciale insomma effettivamente c'è questa possibilità di avere questi chassi e metterci dentro con la scheda ricca è la nostra noi non venderemo niente siamo un'associazione no profit però c'è un produttore che piccolo che lo venderà in questo momento siamo presi anche se poi di fatto paghiamo chi lo fa in questo momento con quindi non lo facciamo noi direttamente se non qualcosina nel realizzare i driver radio che non ci sono più su boot sono stati tolti nel 2021 che ci servono per così quando dato che noi ci interessa mettere una scheda mxm discreta con suo amd radio se possibile chiaramente ci interessa avere i driver sennò parte non vedi niente non diventa attaccarti la seriale quindi che va benissimo per fare a debug però magari e poi facciamo attività educative come dicevo soprattutto nelle marche nelle scuole medie e elementari da diversi anni già da cinque anni e ci sono fatte fatte varie anche i lavori di formazione sul tema dell'ecologia eccetera e c'è viene usato scratch per diciamo per il coding allora noi c'è alcuni mi dicono sa ma alcuni mi hanno chiesto qual è il vantaggio di fare una scheda power pc ma in realtà non è che la scelta non è riguarda la tecnologia che ci è piaciuto per varie ragioni emotive scegliere power pc e poi diciamo che ci facciamo vedere anche le emozioni come molte cose non è che qua siamo degli esseri razionali e basta no però a parte questo diciamo quello che è interessante essere protagonisti cioè nel senso è tutto quello che è successo per riuscire a produrre questo fatto i fatti precedenti e contemporanei sono cosa è successo con le persone perché vuol dire che molti hanno donato vuol dire che molti hanno collaborato ci hanno messo la testa hanno scelto come la volevano come insomma quindi è un'esperienza perché vuole essere protagonista del cambiamento è un piccolo cambiamento su una cosa sfidante non è una cosa più semplicissima almeno per me per cui non è per chi vuole sedersi alla poltrona quindi diciamo questo giusto per dire il destinatario di chi partecipa in associazione è anche capire lo spirito della cosa diciamo che non vogliamo essere spettatori del mondo e vedere la vita che scorre ma vogliamo essere protagonista del cambiamento vogliamo sentire dentro di noi che cresce la vita quella è l'esperienza che secondo me vale la pena vivere su una cosa che fai perché se non senti che cresce la vita non so per quale motivo dovrebbe farla quando non è obbligato voglio dire qua uno fa volontario dico faccia per avere un vantaggio esistenziale no perlomeno e a meno quello che la mia esperienza che c'è una certa gioia non è una gioia capito squarciagola gioia sottile leggera c'è un qualcosa che ha a che fare con il significato cioè il fatto di mettersi in questa esperienza mettere insieme le persone creare un campo di possibilità fare una cosa che sembra impossibile interessante come esperienza e beh in generale siccome adesso la metto un po giù grave però se ci sono dei condizionamenti che non ci piacciono in quel caso non so magari avere dei portateli progettati sempre avendo in mente un'altra avendo in mente non linux o avere sempre dei prodotti chiusi dove non ci fosse il sorgente anche della parte hardware non ci piaceva e quindi abbiamo voluto liberarci da quel condizionamento ce ne sono di più importanti per amore del cielo di condizionamenti oppressivi però è piccolo comunque vogliamo sentirci liberi di scegliere di costruire questo al punto qua ho messo alcuni passioni che magari fanno da intersezione da convergenza tra le varie persone che partecipano ad oggi dalla testargiabile che c'è testardaggine ribesiglione fede e passione su varie questioni e poi come dicevo prima ci sono stati almeno io parlo un po per me con una certa certezza però poi anche altri mi sembrano contenti insomma ci sono state delle esperienze positive nel tentare di fare tutto ciò indipendentemente che potrebbe anche non essere prodotto perché non è che adesso abbiamo la sfera c'è anche se fa il prodotto con funzione e tutto poi non è detto c'è un po di gente un bel numero di gente interessata ma costerà un po di soldi non è che proprio non è una cosa così economica no vediamo magari poi non si riesce vabbè comunque vi ho già detto la storia in sintro di acqua ero io nel 2014 all'inus day 2014 quando ho raccontato questo questo sogno e poi nel 2016 con alcuni che sono presenti qua abbiamo fondato l'associazione e va bene come ho detto prima abbiamo iniziato ad avere questo sistema di sviluppo con lo stesso processore per fare i test con debian power pc e abbiamo iniziato insomma a mettere le mani sulla questione ripeto siamo tutti volontari hobbysti non c'è nessuno di noi che è in grado di progettarla qualcuno ne capisce un po di più io un po meno per cui chiaramente abbiamo raccolto fondi per farla progettare noi siamo tutti volontari e ci siamo abbiamo ingaggiato una piccola azienda cube che fa già schede power pc più piccole per amica per varie amica compatibili non abbiamo un business plan nel senso che non siamo un'azienda siamo un'associazione in più dipendiamo dalle donazioni quindi tutto dipende da come va quindi negli anni via via abbiamo trunto il ritmo che potevamo poi in realtà in realtà ci sono stati i condizionamenti esterni sono del 2021 tutto il casino con i microchip quindi noi eravamo già pronti con anche i soldi raccolti ma non c'erano i chip quindi anzi lì ci sono dei chip che costano come un anello d'oro praticamente quello che l'abbiamo pagati no perché c'era gente che faceva lo strozzino no però dovevamo testarla sta benedetta anche perché il tempo non è indifferente cioè lo chassi non ci sarà per sempre anche altri componenti quindi il tempo ci rimava contro diciamo così ma questo è normale fa parte della vita quindi business plan flessibile dipende insomma da come va l'embaradance siamo qui quindi ci siamo fino a questa fase e abbiamo fatto sempre campagne donazioni quindi non abbiamo mai fatto cronfondi perché non avevamo nessun prototipo in mano e comunque aveva bisogno di più flessibilità cioè noi ci abbiamo messo degli anni delle volte per raccogliere per una campagna dei fondi no qua ci sono alcune alcuni membri dell'associazione o collaboratori insomma anche sparsi nel mondo dalla spagna gli stati uniti eccetera questa qui un po la breve storia come vedete ci sono state diverse campagne non sono partite nel 2017 abbiamo fatto campagna per i schemi elettrici per il pcb per il test di simulazione per i tre prototipi per l'hardware test per la certificazione ce per fortuna noi abbiamo raccolto prima i soldi ancora non abbiamo fatto la certificazione ce perché finché non è definitiva non la facciamo ovviamente per cui diciamo che è andata anche bene ha avuto anche delle donazioni importanti da parte di singoli che ci hanno permesso di andare un po più veloci però il grosso è arrivato da tante piccole donazioni e quindi ci troviamo adesso su una parte abbiamo dovuto accollarci costi in più delle dei chip che abbiamo appena finito adesso di raccogliere quei fondi lì che ovviamente abbiamo già speso prima con altri fondi che avevamo e poi adesso siamo sul tema di uboot cioè di farla partire e con in realtà poi la revisione stessa che funzioni tutto no e quindi siamo ancora nel pieno della campagna donazioni nel rifine di arrivare alla fine insomma siamo nell'ultimo miglio boh non so se un miglio vediamo forse sì ecco dicevo una cosa cioè dicevo volevo dire una cosa importante noi abbiamo lavorato con aziende no cioè non è che chi ha progettato e l'ha fatto perché l'ha fatto perché abbiamo pagato no sicuramente così poi gli è piaciuta l'idea all'inizio non c'era anche un po di resistenza nel farci pubblicare i sorgenti perché ovviamente è un modo di esporsi cioè uno che progetta insomma si fa vedere se può fare delle stupidate magari ha paura che lo giudino non so insomma c'era una resistenza per cui io credo che la cosa importante è che sono le comunità che hanno un ruolo di sensibilizzazione del diciamo dell'apparato diciamo così lavorativo che poi in questo caso ha lavorato al servizio diciamo di un progetto sociale quindi sta a noi un po stimolare superare un po le varie resistenze quindi il nostro PCB lo trovate su GitLab già da un po' poi via via aggiorneremo che arriviamo a delle revisioni diciamo migliori e come dicevo sì ci sono altre iniziative ve l'ho già detto quindi non di lungo ecco una cosa importante tutto questo scegli poter scegliere un'architettura magari meno meno usata come PowerPC è stato possibile solo perché esiste software libero se no come potevamo avere un sistema operativo che funzionava su un'architettura cioè dove come dire non c'è nessun business diretto quindi bisogna tenere presente che tutto ciò è possibile per il lavoro che stanno facendo altri se no se è un bellissima idea ma è assolutamente irrealizzabile da nessun punto di vista alcuni chiaramente chiamano perché PowerPC vabbè sono ragioni emotive secondo me non necessariamente anche tecniche però vabbè potrebbe essere potrebbe essere un'discussione infinita diciamo che ad oggi è interessante perché è un'architettura open power open ISA come RISC-V è più recente cioè nasce nel 91 x86 nasce nel 78 army sembra nel 84 82 insomma era nelle mie vecchie presentazioni lo raccontavo c'è un teletabello non mi ricordo però più o meno così e quindi era innovativa cioè era editato varie cose che le altre architetture nascevano senza ha sicuramente una buona efficienza per quello energetico l'abbiamo messa lì per quello su un portatile chiaramente è un chip firma 2015 per ragione secondo me di divisione del mercato questa è la mia opinione ovviamente per cui chiaramente ancora 28 nanometri quindi però non va male come come cosa termica non come anche come consumo quindi va bene per il notebook va bene abbiamo usiamo già su un dev kit da diversi anni va bene non c'è software proprietario quindi ci obblia a usare anche per i driver della scheda video software open c'è comunque un ecosistema dell'open power foundation che tra l'altro insieme con altre iniziative anche con la RISC-V quindi insomma c'è un ecosistema interessante sì il donazione ve l'ho già detto questo è più o meno tutta la storia dei soldi raccolti quindi vedete sono piano piano un po' di soldini per fare una roba di questo tipo adesso siamo nella fase 8 sviluppo di boot e fix della scheda ci saranno dei fix da fare non gravi però c'è qualcosa anche di meccanico che non entra perfettamente in alcuni punti e poi ci sono delle hanno deciso di togliere alcuni componenti tipo il SATA 3 che che forse ci costa tanto ma non sembra più così necessario e stiamo quindi in quella campagna fondi lì l'ultima in teoria e faremo la certificazione open hardware dopo che sarà definitivo ovviamente si fa quando c'è una roba che funziona in tutti i suoi crismi è una licenza cioè il PCB che è scaricato è una licenza SERN 1.2 non perché la 2 o altre non la vogliamo però fino adesso non abbiamo avuto tempo di fare l'aggiornamento di riflettere comunque diciamo una licenza che non è male per l'hardware secondo noi e vabbè qua sono dettagli direi che non è fondamentale sì 2021 il prototipo era in lavorazione c'è stato un po' di rallentamento perché mancavano i componenti abbiamo fatto solo il PCB senza componenti per vedere l'ingombro che poi è quello che trovate dentro lì e poi sì come dicevo prima non è stato facile perché abbiamo avuto varie situazioni quindi diciamo quello che posso dire solamente senza elencare tutti i dettagli è che alla fine è interessante superare le difficoltà cioè se hai in mente un obiettivo dico per ognuno per i suoi obiettivi cioè ogni volta abbiamo cercato di trovare una soluzione cioè il chassis era difficile trovarlo carenza di componenti abbiamo dovuto un po' svenarci abbiamo dovuto cercare sta scheda MXM che sembrava che scomparivano insomma un po' di cose questo l'ho già detto questo è quello che vedete anche qua c'è lo studio di ingombro che abbiamo fatto qua sono tutti i dettagli e ve li risparmio perché tanto non è è tutto il tema di tutte le cosettine che bisogna dribblare come una maratona e va bene adesso siamo in questa fase che ve l'ho detto e quindi siamo vicino all'ultimo miglio ma vediamo un attimino questo è l'esempio di come è una scheda MXM ha quel pettinello lì che vedete lì e ci evita di doverla fare integrata e ci semplifica ma anche ci permette di fare gli upgrade futuri e questo va bene sono i prototipi uno dei tre prototipi qua e da un annetto essenzialmente i prototipi sono pronti ad un annetto e ci stiamo lavorando tra le varie programmazioni io qua non ve l'ho fatta vedere però ci sono varie fasi il cpld il debug col jtag debug insomma un po' di robette che devi fare e va bene quindi siamo pronti per novembre non è vero è una scritta che è rimasta dentro perché è novembre di quando? buono quindi questo ve l'ho detto siamo in una campagna donazioni per questi obiettivi il uboot la programmazione gli aggiornamenti di varie robe di firmware e progettazione delle pipe le pipe di raffreddamento non possono essere identiche perché chiaramente la disposizione dei componenti e la scheda originale non sono identici quindi è impossibile usare lo stesso pipe come minimo perché noi abbiamo un MXM e quell'originale non ce l'aveva aveva una scheda normalissima integrata e qua si open power è questa fondazione che c'è dal 2013 dove abbiamo avuto comunque un po' di spazio sicuramente questa è un'altra iniziativa anche Coris 5 che però non abbiamo partecipato non c'è stato niente di particolare qua un po' la storia di questa architettura che appunto da anni 90 che va avanti continua ad aggiornarsi ed è open dalla versione 3 quindi dal 2020 se non sbaglio sì esatto quindi è un'architettura molto aggiornata anche se magari non avete non è particolarmente pubblicizzato pari OPC e ci sono anche a parte IBM che in NSP noi abbiamo scelto il processo di NSP ci sono qualche altro diciamo piccolo produttore che probabilmente farà qualcosa anche diverso vedremo ecco semplicemente non è che noi come dicevo prima non è che l'iniziativa è per persone esperte di hardware di software sì certo se ci sono meglio anche perché il nostro obiettivo è appunto magari fare anche altre iniziative hardware open hardware non solo questo più semplici però in realtà ci sono persone che traducono che comunque sistemano i vari posti di aggiornamento che diffondono il progetto che si occupano un po' di come dire occuparsi dei nostri siti cioè che poi senza i siti non c'è comunicazione ci sono i forum ci sono varie cose che usiamo per e supporto anche legale perché delle volte anche nella scelta quando abbiamo dovuto scegliere come fare questa cosa dell'open hardware sì sì finito insomma c'era anche un po' abbiamo dovuto consultarci anche dal punto di vista legale per il tema di lasciare aperti i sorgenti dove c'erano i vari chip eccetera insomma per cui per noi è importante cosa succede a uno quando partecipo quindi al di là di questo dettaglio che ovviamente ci fa piacere se vi piace se volete supportare se volete donare benissimo ma ci interessa di più proporre un'esperienza i riferimenti poi li troverete nel documento che condivido e tutte le nostre cosette se ci sono domande abbiamo ancora 5 minuti giusto? ok vai sì beh il Sfile non esisteva quasi nel 2014 quindi era impossibile MIPS già a parte che eravamo più affezionati a PowerPC devo dirti la componente arrivava un po' da Amiga da alcuni di noi che avevano già il PowerPC con Sulino quindi c'era un po' una cosa emotiva come dicevo prima poi io lo stimavo come architettura mi sembrava che lavorasse bene per diciamo in relazione al clock eccetera però sai è più emotiva ti direi ah sì poi mi piacciono le cose difficili scusa no no noi non eravamo in grado avevamo alcuni volontari che o non avevano il tempo o insomma non c'erano le competenze sufficienti perché il tema è quello per fare una roba di questo tipo anche ipotizzando che uno c'era uno che sembrava che aveva le competenze ma non c'era il tempo quindi alla fine cioè se lo fa nei fini di settimana due ore alla settimana arriviamo nel 2050 quindi no abbiamo dovuto raccogliere i fondi per pagare i progettisti diciamo che la fortuna è stata conoscere realtà piccole che magari ci potessero dare un occhio ovviamente delle volte aspettando anche i tempi che sono un po' diversi da che sei un cliente più grosso no sono sono dieci layer se non sbaglio però quando per fare la prova di ingorbo abbiamo fatto solo due layer per spendere poco e vedere se ci stava uno per quello due perché non c'erano i chip quando l'abbiamo c'erano due ragioni di costi perché era da vedere se ci stava ma in effetti ci sono comunque degli errori perché poi quando vai in 3D sul volume ci sta due layer ma poi con tutti i chip ci sono dei problemi infatti stiamo correggendo sì no no non è open mentre invece no no quello sicuramente che è l'unica cosa che potevamo scegliere perché su un notebook non c'era nient'altro no beh se nell'associazione si aggiungono altri volontari chiudiamo questo progetto ben venga cioè non è che abbiamo preclusione non è che assolutamente sì sì diciamo che come al solito io credo che il importante è l'adattamento crescente cioè cerchi di avanzare però non puoi dire non mi adatto a niente no cioè da una parte accetti delle condizioni dall'altra crea un margine di cambiamento ecco questo è un po' non siamo proprio puristi ecco così è però dipende tutto da chi si aggiunge se uno ha in mente delle cose c'ha un po' di disponibilità di cuore mente e braccia cioè si può assolutamente adesso evidentemente siamo molto tra i rete preoccupati a concludere un po' questa fase ecco sì sì FPGA lattice che serve per inizializzare tutte le periferiche che ci sono in ballo in effetti quella è stata anche è stato fatto un aggiornamento perché non ci partiva cioè non arrivava o io guarda che non sono ti parlo delle volte di cose che non conosco per benissimo quindi se vedi che mancano dei pezzi perché proprio mancano la mia testa no diciamo che poi i CPLD l'abbiamo dovuto far aggiornare perché c'erano qualche problema nell'arrivare fino alla prima la SRAM poi alla alla NAND e poi alla NOR che poi c'erano tutti e due ma non sono necessari vabbè quello è un dettaglio perché i CPLD era da aggiornare c'era qualche errorino insomma infatti adesso stanno litigando perché non si riesce con il JTAG debugger arrivare alla Flash insomma ci sono un po' di il scusa non ho capito sì allora il firmer l'ha fatto il progettista quindi in teoria ce lo deve dare è certo se ce lo dà penso che l'ha fatto per noi quindi adesso non gli ho detto darmelo subito però anche perché ancora cioè dobbiamo vedere che funzioni bene quindi prima di rilasciare quella roba lì non ha senso insomma sì sì comunque sì a meno che ci sia una ragione oscura ma no non vedo perché è fatto per noi quindi dici l'FPGA boh non so secondo me non lo saprei dirti non so neanche io se non sbaglio aveva comprato aveva comprato un apparato per programmarla quindi credo di no credo che direttamente noi non ci abbiamo pensato quindi se è una cosa che fa già lui no no non credo sono i 31 quindi no guardo lei che che so che grazie grazie comunque se volete ci sono i volantini se volete approfondire un po' l'associazione c'è anche il bigliettino col telefono insomma se uno gli interessa vuole migliorare migliorarci insomma partecipare ci siamo